Siamo qua a Rogeno, sono le persone che ci guardano e dovrebbero arrivare i nostri amici aspettiamo un po' e vediamo chi arriva perché qua non arriva una m***a di nessuno diciamo fa un caldo da madonna, ci sono 27 gradi è il primo giugno oggi e abbiamo fatto 21 km per venire qua c'è gente qua che è in penna in bici ed è andata nelle pozzanghere e basta aspettiamo i nostri due amici in moto, dopo ci vediamo dopo vieni su a fare le foto vai vai pazzo pazzo figa pazzo vai tu o fagli le foto? aspetta prendo il telefono e vengo su dai and it's getting hard to breathe, gotta take what I can get, got me feeling like a thief and I'm only living one a few moments later siamo in un posto di russo consigliato da Minox quindi se noi siamo poveri siamo poveri mi sento un bambino, con la coppetta, la fragola che bambino Axel coppetta la fragola siamo dal ristorante San Martino siamo appena portati dalla zona industriale poi ovviamente ci ritorniamo perché dovrebbero arrivare un paio di nostri amici adesso ci cacciano avete visto praticamente quello che abbiamo fatto aveva fatto un po' io divido lui con la fotocamera allora la pubblico così sono le 5 e 10 quindi io ho il posto è finito che schifo il cantante stava nascendo con 6 magliette da 1200 euro Milano è stato per furto gravato il cantante Marco Carta non si sono capiti bene la donna che accompagnava ha detto pago con carta perché è Marco Carta lui paga con carta si sono capiti ci vediamo dopo quando andiamo in zona perché andiamo di nuovo in zona ciao un buco a comi selvatico un buco a comi selvatico un buco a comi selvatico occhio il cane figa il cane è passato a quanto diverso 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 e non spazio vero è passato a quanto diverso ve lo vedi sottolazione è passato a quanto diverso 樣o Pazzo Pagano Par row Pagano Veo co Grazie a tutti Grazie a tutti